Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, allora oggi un nuovo video è un video come avete capito dal titolo che faccio un'altra sponsorizzazione perché l'ultima sponsorizzazione che ho fatto da sola nel senso che per i miei iscritti insomma quindi io prendo qualche iscritto con i 5 iscritti cioè faccio un video e faccio le sponsorizzazioni, siccome ho finito con le sponsorizzazioni però ci sono state 3 ragazze che mi hanno richiesto di sponsorizzarle, ormai è un pezzetto io aspettavo arrivare tipo 5 a 5 sponsorizzazioni però insomma ne sono 3 quindi va più che bene quindi faccio questa sponsorizzazione a queste 3 ragazze sempre mie iscritte e quindi le volevo sponsorizzare senza che sa aspettare altre 2 ragazze per arrivare a 5 persone per sponsorizzarle perché qui mi pare che adesso, per adesso non mi ha chiesto più nessuno, ormai è un pezzetto che queste 3 ragazze me l'hanno richiesto e quindi è giusto ed obbligo che io lo faccio perché lo voglio fare per aiutare questi ragazzi, questi canali piccoli a crescere piano piano e quindi vi faccio pubblicità insomma come ho fatto in precedenza con gli altri miei iscritti quindi io lo dico già adesso all'inizio del video se c'è qualcuno di voi ovviamente deve essere iscritto al mio canale che vuole essere sponsorizzato e basta che commenta sotto a questo video, solo sotto a questo video però deve commentare perché così non mi imbroglio io, perché se vedete questo video poi mi commentate in un video prossimo che faccio, in un video precedente, ma anche non c'ha senso quindi mi raccomando se qualche altra ragazza vuole essere sponsorizzata almeno arriviamo dai a 3 persone perché se devo sponsorizzare una persona sola non c'ha senso quindi già se me lo richiedono 3 massimo ecco quelle 5 persone io a meno 5 persone faccio una bella sponsorizzazione a queste 5 persone loro sono 3, va più che bene lo stesso senza che sto aspettando altre 2 persone come ho già detto prima perché se no ste ragazzi io non le vado a sponsorizzare mai ok allora io niente adesso vi lascio al primo canale quindi comunque mi raccomando sotto a questo video, sotto ai commenti mi raccomando chi vuole essere sponsorizzato deve essere prima iscritto al mio canale così poi io sponsorizzerò il suo canale insomma quindi mi raccomando scrivetemi sotto per chi vuole essere sponsorizzato niente io adesso vi lascio con la prima ragazza con il primo canale e così vi faccio vedere anche gli altri due canali insomma ci vediamo dopo eccomi qua allora il primo canale che vado a sponsorizzare è lei che si chiama a Nails 11 a Nails 11 dovrei averlo pronunciato bene perché si dice Nails non Nails quindi a Nails 11 questa ragazza questo qui è il suo canale in sé per sé questi sono i suoi video fa video tipo lei ha fatto il video a mia postazione skin care make up spacchettamento di vero she yoll o anche di make up lei pure fa le unghie quindi fa ricostruzione nell'art come vedete anche qui eccetera eccetera e anche lei usa i prodotti di sia dei karma Nails e credo anche di passioni e unghie sì infatti prodotti può quindi passioni e unghie e insomma questo qui è il suo canale allora andiamo a vedere il primo canale e vedremo il primo dai la mia postazione skin care e make up alzo anche il volume se non è già alto no ecco qua aspettate eccoci qua allora questa è un'inquadratura generale di dove tengo i miei prodotti principali di skin care e diciamo principali per quanto riguarda il trucco partendo quindi da destra troviamo un olio di rocher che vado ad utilizzarlo su un capello asciutto prima dello shampoo ed è un olio di cui vi ho già parlato agli estratti di jojoba, macadamia e babassau è un olio 99% naturale e quindi questo è il prodotto poi la maschera dei capelli quella da notte poi tengo un vasetto porta dove io tengo la spazzola quella dell'idec di legno e un pettine di rocher poi qui troviamo un deodorante questo è della Sienne ed è senza sali da lì qui ho un prodotto che riguarda l'olio solare con protezione solare del T4 ed è della Lynch Sun Barfer e lo sto aspettando di utilizzarlo per quest'estate qua davanti è un vasetto con dei tre conteniti all'interno solo per bellezza poi la mia spazzola diciamo la mia funzione per il prodotto e il prodotto di schizzo del depo e qui troviamo un contenitore all'interno del quadro ci sono due dei miei rimel preferiti che sono questi qua della Made in New York il Cilio Sondational poi un mascara del supercilio di Kiko e il Bang di Benefit davanti una tinta labbra di Wicon io non so se ho visto tutte le mie tinte labbra questi sono solo i miei rossetti poi un nude di Deborah un rossettino viola se non mi ricordano anche chi è un rossetto di dolce gabbè ok allora questo qui ritorniamo indietro questo è stato il primo video intanto ve l'ho fatto vedere questo qui quindi è il canale di Anails11 questa è lei ve la faccio rivedere e mi raccomando iscrivetevi al suo canale è molto molto interessante soprattutto per me e passiamo adesso al secondo canale eccomi qua allora lei è la seconda ragazza il secondo canale si chiama Gaia De Michele questi sono i suoi video ne ha solo 5 per adesso lei tratta da come vedo comunque solo di unghie è una bravissima ragazza molto simpatica e mi si ferma un attimo su di lei perché merita veramente tanto come tutte le ragazze che sponsorizzo in questo video però con lei mi ci trovo bene è molto simpatica fa certi lavori stupendi sulle unghie e oltretutto anche autodidatta non ha fatto nessun corso ma è veramente bravissima tanto quando uno è portato è portato non c'è niente da fare quindi complimenti Gaia e lei pure usa i prodotti che uso io di Passione Unghie dopo se usa altri prodotti questo non lo so e niente insomma lei fa questa tipologia di video qua lei fa anche le live su Instagram quando fa alle clienti insomma le unghie e infatti le guardo sempre perché mi piace veramente tanto ed è veramente simpaticissima allora cominciamo subito vediamo il primo video anche su di lei Passione Unghie Novità e offerte maggio 2018 non si sente niente spero che sentiate un pochino sono questi glitter semplici che volevo dire scusate ho registrato il video dieci volte perché il telefono è appoggiato sulla solita staffa in acciaio che avete sempre visto e su quel buffer mi passa le unghie quindi ogni tanto si sposta comunque si è uguale al colore merado glitter G01 quindi perfetto da abbinarlo insieme iniziamo con i colori che ho ordinato ho ordinato l'oceano flash G59 bellissimo io amo tutti gli flash anche se sapete mi preferisco i glitter chrome ed qualcosa questo è stesso su tip se vedete le tip un po' storte sono perché è perché sono state riutilizzate tipo c'erano dei cori di Natale siccome le avevo quasi finite le tip ho dovuto riutilizzarle poi ho ordinato papaya flow flash G74 direi se posso essere sincera non mi sono piaciuti affatto questi nuovi fluo flash perché non so se il fatto che sia il pigmento fluo ma sono diversi rispetto ai flash normali e sono proprio più spenti e più potrei dire brutti in fase di non so se appunto sia il troppo pigmento che si mangia è il bello del flash è il bello dell'argento però lo metto a confronto con l'oceano flash è molto più brillante molto più molto più bello ecco poi ho ordinato rosa fluo che non è una novità però erano in offerta e quindi mi ho approfittato perché mi stavano quasi finendo quindi fluo siccome sappiamo che risatevano molto mi ho approfittato questo è il colore evidenziatore sì quell'evidenziatore che si usate per evidenziare normale che l'evidenziatore si usate per evidenziare caio vabbè lasciamo stare sono un genio questo è il colore ma tanto non rende lo sapete che i fluo non rendono caramella fluo flash stessa storia di papaya fluo flash g77 questo è un po' più carino rispetto all'altro questo e questo sono due novità questo è un tip lo avete comprato con il papaya è già più carino rispetto all'altro non so se è proprio il colore che non non mi piace non lo so ok allora questo qui è il canale di gaia de michele mi raccomando iscrivetevi perché ne vale veramente la pena e piano piano comunque ovviamente farà altri video e seguitela anche su instagram che adesso non so se dovrebbe chiamare sempre gaia de michele dopo voi casomai nel canale vedete qua nel in un video se sotto c'ha il sito suo penso di instagram credo di sì comunque ok adesso passiamo al terzo canale e ultimo eccomi qua con l'ultimo canale lei è frenchbeautylover81 e questo qui è il suo canale molto carino e questi sono i suoi video ai miei regali di compleanno bad girl bang contro better than sex i preferiti di aprile i miei top 5 rossetti mega haul festivo cosa c'è nel mio beauty dal viaggio 500 iscritti grazie recensione palette million get ready with me provo le novità di fentinabla make up shopping what's in my bag all di primavera tanti auguri di buona pasqua eccetera eccetera insomma questo qui è il suo canale che si presenta così allora andiamo a vedere questo qua vediamo questo video qui la vediamo invece di primo stavolta facciamo il terzo video vediamo bad girl bang contro better than sex vediamo questo ciao betty lovers bentornati o benvenuti sul mio canale il video di oggi è un video di recensione ma anche di comparazione di due mascara che ho e mi piacerebbe comparare perché a me lo dicono che più o meno abbiano le stesse caratteristiche e sto parlando del to face better than sex con il bad girl band di benefit sono due mascara di due brand che sono di fascia di certo non economica diciamo medio alta perché better than sex io qui ho una confezione piccolina però la confezione quella normale il prezzo l'ho preso qua nel sito di secolo è di 25 euro mentre quello di bad girl band costa 28,50 euro better than sex è una mascara che è presente sul mercato già dopo un po' di tempo mentre bad girl band è di recente uscita da inizio di quest'anno allora il better than sex lo conosciamo tutti è un mascara volumizzante ecco il sito di secolo ha delle fibre multidimensionali e la formulazione del prodotto è a nero di carbone e collagene ti garantisco appunto il volum possiamo vedere lo scovolino è a forma di crescita con delle sedule per cui diciamo che è adatto per avere un effetto volume altri mascara simili come per esempio il popopango viene in mente hanno uno scovolino simile e ha proprio un effetto volumizzante e questo è il better than sex invece il better than sex ecco sempre lo sito di secolo ha una formula con aeroparticelle e la formulazione è con provitamina B5 e lo scovolino che potete vedere ha una forma di cono rispetto all'altro con delle sedule di silicone e sono ben 300 queste sedule come dice il sito la forma appunto è proprio iconica rispetto all'altro ok questo qui quindi è il canale dov'è aspetta di Frenchy Beauty Laura 81 anche lei è molto molto carina molto simpatica molto dolce e infatti lei mi commenta sempre sotto ogni mio video ti ringrazio veramente tanto tesoro è molto molto carina quindi vi consiglio anche di iscrivervi mi raccomando al suo canale niente io se questo video comunque vi è piaciuto mettete il pollice in su io spero a tutte voi tre ragazze che comunque piano piano qualcuno vi arriverà e si iscriverà ai vostri canali e che siete tutte e tre delle fantastiche persone e quindi ve lo meritate molto niente io vi saluto vi mando un bacio e vi ricomando se c'è qualcuno che si deve iscrivervi prima al mio canale e che vuole essere sponsorizzato mi commentate sotto a questo video così poi io quando troverò quelle tre persone che vogliono essere sponsorizzate vi sponsorizzerò quindi mi raccomando niente vi saluto vi mando un grande bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao